Sergio Maiga si è da poco conclusa la cerimonia di premiazione del rally di Sanremo e quando finisce si tira un sospiro di sollievo? Mezzo perché ci sono ancora delle macchine che corrono sulle strade perché deve ancora arrivare prima leggenda poi lo storico questa sera davanti al casino che sarà una novità assoluta però già ce ne siamo levati un bel gruppo e mi sembrano tutti contenti una bella gara tanto pubblico un Sanremo abbiamo notato proprio tanto pubblico anche all'arrivo nonostante la pioggia nonostante la pioggia perché comunque la passione per il rally a Sanremo è sempre importante oggi e domani ci si riposa dopo domani si pensa già all'edizione 2018 ho paura di sì